carissimi amici amiche torniamo sulle frequenze della sagra scrittura dell'antico testamento in particolare con l'inizio di questo nuovo ciclo non nuovo con la prosecuzione scusate del ciclo di catechesi appunto dell'antico testamento che abbiamo lasciato prima della pausa estiva con il racconto della storia di mose e quindi connessa alla storia di mose evidentemente quella che è stata la sua missione quindi l'essodo e l'uscita di israele dalla terra promessa abbiamo concluso proprio la presentazione sintetica come sarà sintetica anche quella di questa sera troppo esigenze di tempo per dare una panoramica dell'antico testamento costringono a sintetizzare un po il lavoro perché altrimenti veramente ci vorrebbe 10 anni ci vorrebbe 10 anni per fare un ciclo di catechesi bibliche su un argomento tanto vasto quanto l'antico testamento quindi come accennato qui si tratta di presentazioni sintetiche che poi chiaramente possono essere approfondite dalle letture personali di chi è evidentemente interessato abbiamo lasciato mosè che a causa delle sue debolezze riceve la severa sentenza di non poter condurre israele nella terra promessa e quindi si ferma sul monte nebo dove vede la terra promessa e in quando dove muore e passa il testimone a Giosuè Giosuè che sarà poi incaricato è di fatto incaricato di portare israele nella terra promessa e il libro di Giosuè è ciò appunto che è il bro che racconta qui vediamo un attimo una sintesi che è meglio vederla insieme con la nella slide che si dovrebbe vedere in sovraimpressione nella diretta e anche nel video poi sarà registrato se tutto come spero funzioni per il meglio e si vede la vocazione alla missione di Giosuè che la andremo a leggere qui ci sono anche i passi un pochino salienti che cercheremo di andare a leggere e commentare il passaggio del Giordano che è diciamo così come dire l'alter ego del passaggio del Mar Rosso quindi un fenomeno meno di proporzioni meno mastodontiche ma comunque certamente miracoloso significativo o l'importantissimo e a mio avviso attualissimo racconto di siccome è stata presa Gerico l'apparentemente inespugnabile grande città dell'antichità e poi la conquista e in particolare ci fermeremo sull'episodio diventato celeberrimo in epoca galileiana di fermati ossori quindi fuoriero di tante tante polemiche con la presa di Hai e poi la ripartizione una volta che si entra nella terra promessa la ripartizione del paese fra le tribù poi c'è l'ultimo discorso di Giosuè e l'altro passo veramente molto importante che rinnova l'alleanza nella grande assemblea di Sichem e poi la morte di Giosuè essendoci così tantissima carne al fuoco direi di andare immediatamente alla lettura dei testi alla lettura commentata dei testi in modo tale che possiamo appunto entrare dentro questa pagina meravigliosa ecco dell'antico testamento sapete che la chiesa le legge queste cose sono lette anche da noi che siamo cristiani non siamo ebrei pur con tutto il rispetto evidentemente per gli ebrei perché non soltanto per conoscere che cosa che è già altamente costruttivo ciò che Dio ha operato nella storia il braccio potente che ha spiegato ma qui come vedremo ci sono tante indicazioni attualissime per noi come in tutte le pagine della Sacra Scrittura cambio la schermata condivisa e passiamo alla Sacra Scrittura ossia questa e cominciamo la lettura dei brani a partire dalla vocazione di Giosuè dopo la morte di Mosè servo del Signore il Signore disse a Giosuè figlio di un aiutante di Mosè Mosè servo è morto ora dunque attraversa questo Giordano tu e tutto questo popolo verso la terra che io do loro agli israeliti ogni luogo su cui si poserà la pietra dei vostri piedi ve l'ho assegnato come promessa a Mosè dal deserto e da questo Libano fino al grande fiume le urate tutta la terra degli iti fino al mare grande dove tramonta il sole tali saranno i vostri confini ora attenzione nessuno potrà resistere a te per tutti i giorni della tua vita come sono stato con te come sono stato con Mosè scusate così sarò con te non ti lascerò né ti abbandonerò bellissimo ancora si coraggioso e forte azac proprio essere coraggioso ve emaz coraggioso forte poiché tu dovrai assegnare a questo popolo la terra che ho giurato e loro padre di dare loro tu dunque ancora stessi termini si forte e coraggioso molto coraggioso ve emaz ne ob molto coraggioso per osservare mettere in pratica tutta la legge che ti ha prescritto Mosè mio servo non deviare da essa né a destra né a sinistra e così avrai successo in ogni tua impresa non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge ma medita lo giorno e notte per osservare mettere in pratica tutto quanto hai scritto ci porterai a buon fine il tuo cammino avrai successo non ti ho forse comandato sii forte e coraggioso non aver paura non aver paura non tremare letteralmente al taroz e non spaventarti al techat perché il Signore tuo Dio è con te bellissimo in tutti i luoghi dove tu andai letteralmente dovunque tu vada allora prime considerazioni Giosuè come abbiamo capito era un generale militare quindi era il capo dell'esercito di Israele e riceve il mandato appunto di introdurre il popolo nella terra promessa si dice nessuno potrà resister perché nessuno potrà resisterti non perché tu sei un grande condurro ma perché io sarò con te perché io non ti lascerò né ti abbandonerò quindi ricordiamo sempre domani è la festa della Madonna addolorata sapete che la Madonna ha detto che la parola più gradita che gli ha rivolto l'Arcangelo era il Signore è con te San Paolo dice se il Signore è con me ma chi sarà contro di noi ci può fare del male nessuno ora l'importante è che noi facciamo in modo che il Signore sia con noi perché tutte le raccomandazioni che qui dà il Signore a Giosuè come abbiamo visto non sono strategie militari oppure addestramento per il complimento della sua missione di fare esercitazioni in questo modo no no questo deve andare a combattere per il Signore e quali sono come dire le esortazioni sia coraggioso e forte perché lo deve insegnare quindi sia coraggioso in che senso per osservare mettere in pratica tutta la legge che ti ha prescritto Mosè mio servo l'ishmor l'asot quindi per osservare shamar e l'asot letteralmente per fare quindi fare proprio mettere in pratica tutta la legge che ti ha ordinato Mosè mio servo ancora non deviare da essa né da destra né da sinistra e così è successo nella tua impresa quello che dice il Signore a Giosuè lo dice a me e lo dice a te vuoi che il Signore sia con te come ti augura sempre il sacerdote quando sei messo il Signore sia con voi sia con voi questo è quello che devi fare osserva e metti in pratica tutta la legge tutta la legge non un po' eh e non deviare da essa né a destra né a sinistra quando sentiamo noi oggi dire la legge la legge di Dio la legge immutabile e perfetta che è installata nel decalogo che non si tocca e non si devia da esso né a destra né a sinistra né nel po' né nel molto il decalogo così come tra l'altro ampliato da nostro Signore a Giosu Cristo nel discorso della montagna del Vangelo di San Matteo ancora non stai lontani dalla tua bocca il libro di questa legge ma medita lo giorno e notte per osservare e mettere in pratica il gesto che facciamo quando noi ascoltiamo il Vangelo ci facciamo il segno sulla fronte perché perché il Vangelo lo devo meditare sulla bocca perché il Vangelo lo devo proclamare e sul cuore perché il Vangelo lo devo osservare e mettere in pratica ma lo osserverò e lo mettere in pratica nella misura in cui lo amo e così porterei a buon fine il tuo cammino avrei successo il suo cammino di militare e di capo dell'esercito di Israele e noi il nostro cammino che il Signore ci ha dato nella nostra esistenza nella nostra vocazione problemi difficoltà non spaventarti non aver paura perché il Signore lo dia con te dovunque tu vada becola scerte lech dovunque bello no? e questo può bastare per quanto riguarda la vocazione andiamo a vedere adesso il passaggio del Giordano c'è tutta la fine del capitolo 1 col capitolo 2 primo passaggio diciamo significativo il passaggio appunto del Giordano Giordano si riavò di buon mattino si mostrano da sitting lui e tutti gli israeliti pernottarono trascorsi tre giorni dietro al popolo questo ordine quando vedrete l'arca dell'alleanza del Signore vostro Dio e sacerdoti dei viti che la portano voi vi muoverete dal vostro posto e la seguirete attenzione però eh vi sia però tra voi ed essi una distanza di circa duemila cubiti avvicinati così potrete conoscere la strada dove andare perché vi non ci siete passati per questa strada Giordano ordino al popolo santificatevi perché domani il Signore compirà meraviglie in mezzo a voi ai sacerdoti Giordano disse sollevate l'arca dell'alleanza e attraversate il fiume davanti al popolo e si sollevarono l'arca dell'alleanza e camminarono davanti al popolo il Signore disse a Giordano oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutti serelli perché sappiano come sono stato con Mosè così sarò con te da parte tua ordina ai sacerdoti che portano l'arca dell'alleanza una volta arrivata l'arca delle acque del Giordano vi fermerete disse allora a Giuseppe gli serrete venite qui ad ascoltare gli ordini del Signore vostro Dio disse ancora a Giuseppe da ciò saprete che in mezzo a voi vi è un Dio vivente proprio lui cacerà via dinanzi a voi il Canoneo, l'Ittita, l'Eveo, il Perizzita, il Gergeseo, l'Amorreo e il Gebuseo ecco l'arca dell'alleanza del Signore di tutta la terra sta per attraversare il Giordano anzi a voi sceglietevi dunque dodici uomini dalle tribù di Israele un uomo per ciascuna tribù quando le piante dei piedi dei sacerdoti che portano l'acqua che portano l'arca del Signore si poseranno nelle acque del Giordano le acque del Giordano si divideranno l'acqua che scorre da monte si fermerà come un solo argine e così sarà poi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti adesso dovrebbe essere di nuovo misteri allora sette sono il numero delle nazioni pagane quindi questi sette popoli che sono appunto il simbolo delle nazioni pagane dai padri della Chiesa in diverse interpretazioni allegoriche sono state identificate con i sette vizi capitali che vengono sterminati cioè la terra promessa questa è l'interpretazione mistica diciamo così della storia di Israele non è altro che il luogo dove scorre latte e miele è che la condizione di amicizia con Dio e di santità vedremo poi per arrivare a questa condizione ci deve essere prima la liberazione dalla cappa del demonio simbolizzata dall'Egitto ecco che viene apertura del Mar Rosso quindi intervento miracoloso di Dio perché se non si pensa al nostro Signore non possiamo essere liberati dal demonio e affogamento dei nemici di Israele dentro il Mar Rosso poi però c'è un altro step bisogna entrare in lotta e già questo ci vuole un altro miracolo quindi sacerdoti che calcano il film giordano contro queste sette nazioni pariane che si polegge in sette vizi capitali quindi questo è lo step capite che acqua il Mar Rosso ma acqua ancora di più il giordano quindi tenete presente che molte catechesi di questo di questo genere venivano fatte dai Santi Padri nel contesto delle cosiddette catechesi mistagogiche cioè quelle che venivano fatte in occasione del battesimo subito dopo essere stati battezzati quindi immergendoti nel giordano attraverso il ministero dei sacerdoti quindi rinascendo a nuova vita ti viene data l'attrezzatura per iniziare la battaglia spirituale contro i sette vizi capitali proprio il cammino di perfezione e di purificazione in vista del raggiungimento della terra promessa questa è tanto per comprendere come un tempo questa è la lettura spirituale o allegorica della storia della salvezza oggi abbastanza in penombra abbastanza diciamo così snobata in tempi moderni perché oggi si predilige la cosiddetta interpretazione scientifica della Sacra Scrittura quindi fondata sulle moderne acquisizioni per carità per tanti aspetti interessanti e valide appunto dello studio scientifico esegetico della Bibbia per la verità il Magistero della Chiesa anche attraverso i papi anche quelli che hanno manifestato aperture hanno sempre caldeggiato una permanenza di entrambe le prospettive quindi di non di non di non pendere dall'una o dall'altra parte in maniera assolutamente come dire faziosa e unilaterale questo certamente è molto più edificante a mio avviso e costruttiva ed è un patrimonio che non va certamente perduto ora andiamo a vedere la presa di Gerico ho un passaggio veramente fondamentale come viene presa a Gerico allora andiamo al capitolo sesto e vediamo la presa di Gerico la presa di Gerico penso che di nuovo i protagonisti sono i sacerdoti allora ma Gerico adesso non so per caso di leggere tutto il capitolo sesto perché c'è il solito stile ebraico quindi da l'ordine poi dice eseguono l'ordine poi lo fa poi lo rifanno questo è proprio il modo tipico di scrivere degli ebrei no? allora che cosa fanno? Gerico si conquista così perché Gerico non viene conquistata dalla potenza umana ma dalla potenza di vita allora si vede nel versetto 1 questo possiamo leggere Gerico era sbarrato e sprangato davanti agli israeliti nessuno entrava né usciva allora come si farà a prendere Gerico? voi tutti i doni della guerra versetto 3 girerete intorno alla città percorrendo una volta il perimetro della città si fa un giro intorno farete così per sei giorni però non lo fate da soli sette sacerdoti porteranno sette trombe di corno d'ariete davanti all'arca il settimo giorno girerete intorno alla città per sette volte e i sacerdoti suoneranno le trombe quando si suonerà il corno d'ariete appena voi sentirete il suono della tromba tutto il popolo prorromperà un grande grido di guerra e allora le mura della città coleranno il popolo salirà ciascuno dritto davanti a sé Giosuè convoca i sacerdoti attenzione fanno il giro con l'arca dell'alleanza e adesso qui amici cari questo è l'episodio evidentemente poi fatto questa operazione quindi cosa fanno per sette giorni immaginate uomini armati e che dobbiamo fare? dobbiamo fare un giro appresso ai sacerdoti un giro silenzioso un giorno due giorni tre giorni quattro giorni cinque dopo di che suonano la tromba cavano le mura e andiamo a fare il fin di mondo e così successe alla settima volta andiamo direttamente al versetto 16 entrofiata alle trombe Giosuè disse lanciate il giro di guerra e votate tutto allo sterminio tranne la famosa Rab la prostituta abbiamo saltato questo episodio che fu quella che ospitò gli esploratori che erano andati a dare un'occhiata per vedere che tirava dalle parti di Gerico e li aveva difesi non li aveva denunciati aveva impedito che fossero scoperti e catturati Rab la prostituta anche qui la letteratura padristica su Rab la prostituta ha scritto fiumi d'inchiostro ma dobbiamo fare delle scelte perché è impossibile approfondire tutto no? Versetto 21 votarono allo sterminio tutto quanto c'era in città tutti morti tranne Rab incendiano la città e quanto che era dentro solo l'argento l'oro gli oggetti di bronzo e di ferro al tesoro del tempio del Signore e attenzione in quella circostanza Giosuia fece giurato maledetto davanti al Signore l'uomo che si metterà a ricostruire queste città di Gerico sul suo primo genito ne getterà fondamente sul figlio minore ne vederà la porta poi Gerico non sta più eh allora Gerico per esempio anche la parabola del buon maritano un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico a Gerico si trova non molto lontano dal mar morto ed è il punto più basso della terra non peraltro molto lontano dalle famose città di Soma e Gomorra Gerico è il simbolo della città del diavolo nella saga scrittura come si spugna facendo uno scontro lontale diretto nessuno può spugnare Gerico con uno scontro affrontare diretto ci vogliono i sacerdoti ci vuole l'arca dell'alleanza e ci vogliono i giri che conosce un pochino certi scritti no? i giri intorno giri 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 solo quando viene fatto tutta questa operazione interviene il signore fa croare le mura e Gerico si può spugnare allora qui cari amici io non posso evitarmi non sono il solo tra i sacerdoti insomma grazie a Dio a essere persuaso di questo a fare riferimento necessariamente anche a tante situazioni di attualità civile ed ecclesiale se Gerico è la città del diavolo vuol dire che quando il potere del diavolo entra in azione e comincia ad occupare territori e a farli suoi noi col diavolo non ci possiamo entrare in scontro diretto perché col diavolo possiamo vincere solo se Dio è con noi ora quello che il Signore qui ha insegnato di una cosa di questo genere sono questi giri appresso ai sacerdoti cosa simboleggiano simboleggiano le operazioni che si devono fare in questi casi insieme ai sacerdoti girare girare significa stare intorno a Gerico e pregare 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 aspettando il momento in cui il Signore dirà pronti all'assalto di Gerico e pugniamo Gerico cadono le mura non si possono fare operazioni di iniziativa propria perché se ti metti ad andare ad attaccare Gerico di iniziativa propria ne uscirai con l'ossa rotta chiunque tu sia penso che non occorra raggiungere molto altro ci sono tante situazioni e guardate che ogni giorno arrivano notizie preoccupanti oggi è uscita fuori la posso dire perché pubblica è stata postata su live site news una notizia abbastanza inquietante che riguarda la condizione della nostra povera chiesa nel famoso sinodo tedesco che quella è una polveriera il sinodo tedesco sapete che significa una polveriera una polveriera è stata approvata con la maggioranza dei voti tra cui molti vescovi che facevano parte di queste commissioni una sorta di risoluzione chiamiamola così che chiede alla chiesa cattolica sarà rivolta a Roma sarà portata a Roma di riconoscere la bontà degli atti omosessuali una cosa di questo genere insomma magari quando succedono queste cose la tentazione dell'agitazione o del disordine o della scompostezza nelle possibili lezioni può avvenire ma non dobbiamo mai farla tecchire assolutamente è evidente che dietro quest'operazione chi c'è questa è una manifestazione purtroppo di come lo spirito del male abbia come dire attanagliato anche alcune menti che non dovrebbero essere attanagliate ma questa non è una cosa che viene da Dio cioè questo non è che ci piove io mi chiedo come come può otto vescovi hanno votato hanno votato il contrario ma i vescovi mi pare che fossero 56 quindi è una minoranza che si fa in queste situazioni ne dico una per dirne tutte scontro frontale quindi che si fa giriamo giriamo con i buoni sacerdoti quindi preghiamo giriamo giriamo perché questa cioè ci sono alcuni processi ci sono alcune situazioni che stanno prendendo piede stanno come dire sembrano come delle maree montanti quindi sembrano come dei processi irrefrenabili e forse potrà anche essere così ora quello che io penso sulla base di questo di questo insegnamento indiretto che c'è dalla sacra scrittura che bisogna sicuramente fare le porte sono blindate le porte sono sprangate non sembra che ci siano modalità per fermare tutto questo bene cominciamo a fare un po' di giri intorno giri intorno giri intorno giri intorno non pensando assolutamente che sta facendo delle cose inutili ma invocando ed anche attendendo che Dio ci metta le mani che Dio ci faccia qualcosa perché soluzioni umane oltre che essere inefficaci o in alcuni casi possono essere controproducenti oppure comportare il famoso come dire la famosa infrazione del principio che il fine non giustifica i mezzi non possiamo anche per combattere una cosa buona per combattere una buona battaglia ricorrere a mezzi cattivi a mio avviso l'insegnamento della presa di Gerrico che rimane sempre attuale ci fa comprendere come si combattono le battaglie sante contro nemici apparentemente invincibili nella sacra scrittura è sempre così quando vedremo quando ci arriveremo l'episodio di Davide e Golia ma non è la stessa cosa non è la stessa cosa o Gedeone questo lo vedremo già forse nel prossimo incontro nell'ipote dei giudici che quando deve andare in guerra contro nemici il Signore gli riduce l'esercito a 300 uomini contro non mi ricordo quanti migliaia Gedeone diceva che facciamo ci penso io vedremo questo non voglio anticipare allora da un lato ci pensa il Signore attenzione noi non è che non facciamo niente noi dobbiamo fare quello che è giusto e che è corretto fare però ricordo che ci pensa il Signore noi combattiamo le battaglie del Signore e come vuole il Signore che siano combattute non a modo umano attenzione queste cose a mio modestissimo parere sono molto più importanti di quanto si pensa ecco dopodiché dopo la presa di Gerico comincia gradualmente la conquista della promessa mi capito vedo all'8 al 12 ci fermiamo un istante per fare qualche piccola considerazione anche per evitare di essere come dire sempre poi travolti ecco sotto le ondate delle narrazioni dominanti e dei luoghi comuni luogo comune di questa cosa ecco l'ignoranza degli ecclesiastici ha portato alla condanna di Galileo che aveva scoperto le macchie lunari e quindi che non era il sole a girare intorno alla terra ma la terra a girare intorno al sole a causa di quello che c'è scritto nella Bibbia andiamo a vedere il il brano leggiamo un pochino tutto quanto il contesto quando messaggio a venite ad aiutarmi per attaccare Gabon perché ha fatto pace con Giosuè e con gli israeliti questi cinque re amorrei con tutte le loro truppe si radunarono insieme e andarono ad accapparsi contro Gabon e le mosse guerra gli uomini di Gabon inviarono allora questa richiesta a Giosuè all'accampamento di Calgara da un momento ai servi vieni presto da noi a salvarci aiutaci perché si sono alleati contro noi tutti i re degli amorrei che abitano le montagne allora Giosuè salì da Calgara con tutto l'esercito e il Signore gli disse non aver paura di loro perché li consegno in mano tu nessuno di loro resisterà davanti a te Giosuè piombò su di loro all'improvviso avendo marciato tutta la notte da Calgara e il Signore li disperse davanti a Israele e infilse loro una grande sconfitta a Gabon li inseguì sulla via della salita di Betoron e li batte fino ad Azzeca e Machedà mentre essi fuggivano di Nasi Israele ed erano alla discesa di Betoron il Signore lanciò dal cielo su di loro come grosse pietre fino a Azzeca e molti morirono morirono per le pietre della grandine più di quanti a questo Signore cosa fa? Quando il Signore consegnò gli amorrei in mano agli israeliti Giosuè parlò al Signore e disse alla presenza di Israele fermati sole su Gabon luna sulla valle di Ayalon si fermò il sole e la luna di Masi Immobile finché il popolo non si indicò dei nemici non è forse scritto nel libro del giusto stette fermo il sole nel mezzo del cielo non corse al tramonto un giorno intero né prima né poi un giorno come quello in cui il Signore ascoltò la voce di un uomo perché il Signore combatteva per Israele che cosa è successo? Allora per vincere la battaglia c'era bisogno semplicemente per farvi secchi tutti quanti in un giorno che la giornata si protraesse andasse oltre le ore di luce normalmente presenti ora vedete fermati su Gabaon dal punto di vista scientifico a un certo punto noi siamo venuti a sapere che il Suero non c'è niente di cui fermarsi di cui fermarsi scusate perché chi si ferma in realtà è la Terra ma questo però deve farci anche capire un certo tipo di ci deve far capire alcune cose che riguardano anche il famoso tema dell'inerranza della Sacra Scrittura qui ci troviamo con Giosuè ricordate il calendario biblico siamo intorno al 1100 più o meno avanti Cristo nel 1100 più o meno avanti Cristo nessuno degli uomini sapeva che la Terra gira intorno al Sole nessuno allora però il Signore quel giorno ha fatto un miracolo perché ha protratto le ore del giorno domanda per far comprendere che il Signore ha fatto un miracolo che cosa avrebbe dovuto scrivere Giosuè nel libro di Giosuè io sto facendo riferimento alla dottrina classica secondo cui Giosuè è autore del libro di Giosuè è inutile dirvi che da un punto di vista eseggetico contemporaneo questa affermazione è minata però non entriamo su queste cose perché questo è un ciclo diciamo di catechesi divulgativo ecco non scientifico sotto questo punto di vista come si fa a esprimere questo concetto e per forza esprimere in questo modo però attenzione non bisogna prendere fondamentalisticamente il versetto biblico perché il versetto biblico non ha come fine la Bibbia non serve a farci conoscere verità scientifiche no la Bibbia serve a farci conoscere ciò che Dio ha operato quello che Dio ha operato è vero ma è espresso in questi termini non perché il sole si è fermato e quindi la Bibbia sta dicendo una falsità scientifica e quindi non è vero quello che c'è scritto perché questo è quello che vorrebbero dire qualcuno alla Bibbia non interessa comunicarci una verità scientifica la Bibbia si deve scrivere in questo modo perché altrimenti questa cosa non sarebbe capita non c'era modo di comunicare spero che mi sto facendo capire agli abitanti di quel tempo che la giornata era durata anziché otto ore dieci ore di luce quindici sedici venti non c'è l'altro sistema e qui c'è anche come dire questa grande condiscendenza come dire divina nel senso che Dio si adatta questa è una verità che è conseguente a questa considerazione Dio si adatta nel modo di comunicare alla creatura e al suo grado attuale di coscienza e conoscenza questo lo fa con gli israeli ma lo fa anche con noi spero di aver in qualche modo chiarito questo punto c'è una serie di capitoli molto lunghi dove c'è la ripartizione del paese fra le tribù sapete che le tribù di israele erano dodici e di fatto la terra promessa la palestina viene sezionata in dodici aree geografiche ripartite tra i dodici tribù di israele che dipendono dai dodici figli di giacobbe per esempio tanto per capire qualcosa Giuda c'è la tribù di Giuda di cui faceva parte anche il nostro signore da cui deriva quella dizione particolare che conosciamo nel nuovo testamento i giudei i giudei erano gli abitanti della palestina che abitavano nel territorio di Giuda Giuda si trova a sud e nel territorio di Giuda cosa c'è cosa c'era e cosa c'è Betlemme e Gerusalemme che sono a qualche chilometro di distanza l'uno dall'altro i giudei chi è perché i giudei stavano a Gerusalemme Gesù non era giudeo Gesù era un Galileo delle genti quella era di Zabulon all'estremo nord della Palestina si trova da tutta altra parte è vero che chi va in terra santa sa bene che per arrivare da Gerusalemme a Nazareth è un bel viaggetto con i nostri mesi non è niente niente di che però insomma devi farti due o tre ore di Pullman per arrivare da un da un cavo all'altro no? oh invece è molto interessante e con questo concludiamo vediamo a che punto stiamo con i tempi ce la facciamo sì andare a ricapitoli 23 e 24 magari c'è anche la morte di Musè cioè l'ultimo discorso scusate la morte di Gesù è l'ultimo discorso di Gesù e soprattutto la bellissima cioè il rinnovamento dell'alleanza quindi quando i nemici sono distrutti le terre sono assegnate e si sta con ieri dire via andare ad abitare nella terra dove la latte viene chiesto il rinnovamento dell'alleanza fatto che ci fa pensare ovviamente a noi lo diciamo subito così al rinnovamento diciamo la morte di Pasqua dovremmo farlo personalmente il giorno anniversario del nostro battesimo il più spesso possibile anche delle nostre promesse battesimali noi siamo tutti quanti legati da voti da giuramenti fatti al nostro Signore e lo dobbiamo rispettare allora andiamo a vedere andiamo parchi avanti capitoli 23 e 24 di Gesù allora capitolo 23 l'ultimo discorso di Gesù molto tempo dopo che il Signore aveva dato trego a Israele da tutti i nemici che lo circondavano Gesù è ormai vecchio e molto avanti negli anni convocò tutto Israele i capi i giudici gli iscritti e disse io sono vecchio molto avanti negli anni voi avete visto quanto il Signore vostro Dio ha fatto a tutte queste nazioni scacciandole dinanzi a voi il Signore stesso vostro Dio ha combattuto per voi piccolo pit stop il Signore stesso vostro Dio ha combattuto per voi io auguro a tutti coloro che ascolteranno queste cose auguro anche a me stesso di poter vedere nelle nostre battaglie sante battaglie combattere il Signore per noi quali sono le battaglie le battaglie contro i nostri peccati le battaglie contro i nostri vizi le battaglie contro le tentazioni le battaglie per abbracciare la croce oggi è la festa della Santa Croce le battaglie per affrontare con coraggio le tribunazioni in momenti difficili della vita queste sono le nostre battaglie la cosa fondamentale è che il Signore stia con noi fuggiamo dinanzi a Israele dissemo perché il Signore combatte per loro ricordate il grido degli egiziani davanti al Mar Rosso no Dio combatte per noi purché Lui sia con noi e Lui è con noi se noi siamo con Lui capite? Ave Maria piena di grazie il Signore è con te è stato detto il Signore è con te piena di grazie attenzione alla sequenza piena di grazia e quindi il Signore è con te qual è la cosa più importante visto le le persone intelligenti e anche le apparizioni autentiche in questo periodo tribunato che cosa ci raccomandano? che cosa dobbiamo fare dinanzi a questi sconvolgimenti che vediamo con i nostri occhi alcuni dei quali preoccupanti e gravi vivi in grazia di Dio fa in modo che il Signore sia con te per non trovarti impreparato dinanzi alle prove quali sconvolgimenti dovranno accadere prima che le cose cambieranno prima che il Regno di Satana sia abbattuto non lo sappiamo potrebbero essere impegnative forse e allora che dobbiamo fare? prepararci e come ti prepari? intensifica più che puoi la vita di grazie e prega molto guardate ripartito tra voi a sorte come eredità per le vostre tribù queste nazioni rimanenti oltre a tutte quelle che ho sterminato dal Giordano fino al mare grande occidente il Signore vostro Dio le disperderà egli stesso dinanzi a voi le scaccerà dinanzi a voi e voi prenderete possesso dei loro territori come il Signore vostro Dio vi ha promesso adesso vedete quello che Dio dice a Giosuè Giosuè dice ai suoi condizione perché questo accade siate forti stesso verbo che abbiamo visto siate forti molto nel fare cosa vedete gli stessi verbi adesso spero che vi ricordiate l'Osservare e mettere in pratica quanto è scritto Hakatuv nel libro della legge di Mosè Besefer Torat Mosè senza deviare da esso né a destra né a sinistra ricordiamo no? abbiamo letto all'inizio di questa puntata e senza mescolarvi con queste nazioni che rimangono tra voi non invocate i loro dei non giurate su di loro non serviteli e non prostratevi davanti a loro questo vale anche per noi niente idolatria niente invocazione di dei estranei niente prostrazione a nessun idolo del mondo nessun idolo del mondo questo è un discorso molto ampio e niente prostrazione nemmeno a nessun personaggio del mondo ok? Restate invece fedeli al Signore vostro Dio come avete fatto quest'oggi eccolo qua restate fedeli l'ebraico è Tidebaru restare fedeli letteralmente in inglese è Klein è restate agganciati saldi d'accordo come avete fatto fino ad oggi agganciati il Signore ha scattato dinanzi a voi nazione grande e potente nessuno ha potuto resistere dinanzi a voi nessuno capite che quando siamo con il Signore non ce n'è per nessuno uno solo di voi nel seguito a mille perché il Signore ha combattuto per voi ora abbiate gran cura per la vostra vita di amare il Signore vostro Dio ecco l'altra grande cosa dobbiamo fare amarlo tanto appena ho fatto un tweet questa sera non dobbiamo vergognarci che il nostro amore sia anche affettivo sia anche coinvolto passionale oggi è la santa croce ma noi dobbiamo ringraziare dobbiamo piangere dinanzi a croce Cristo letteralmente abbiate gran cura osservate grandemente quindi proprio osservare grandemente per la vostra vita letteralmente sarebbe non semplicemente la vita la vostra anima quindi osservate grandemente per il bene della vostra anima che cosa l'amore al Signore vostro Dio perché se vi volgete indietro chiam attenzione shuv tashuv costruzione ebraica molto molto cioè se vi rigirate quindi voltate le spalle al Signore e anzitì aderire alla sua legge e ad amarlo cominciate a pensare come i pagani quindi vi unite al resto di queste nazioni che sono le master vi imparentate con loro sappiate che il Signore vostro Dio non scaccerà queste nazioni dinanzi a voi ma diventeranno per voi una rete una trappola un flagello a vostri fianchi e spino a vostri occhi finché non sarete spazzati via da questo terreno buono che il Signore Dio oggi vi ha dato ecco io oggi me ne vado per la chiesa di ogni abitante della terra riconoscete con tutto il vostro cuore con tutta la vostra anima che non è caduta neppure una parola delle promesse che il Signore vostro Dio aveva fatto per voi tutte si sono compiute per voi neppure una parola è caduta ma come è giunto a compimento per voi ogni promessa che il Signore vostro Dio aveva fatto sta dicendo perché io sono stato fedele a lui è sottinteso non lo dice ma è sottinteso così il Signore porterà a compimento con voi tutte le minacce finché vi abbia eliminato da questo terreno buono che il Signore vostro Dio aveva dato attenzione se rimanete con lui andrà la grande ma se Shob Tashuvu infinito assoluto più futuro costruzione tipicamente quindi se farete un colpo di mano e vi andate a girare quindi risolutamente volgendovi ad altro sarà la fine attenti se trasgredite l'alleanza che il Signore vostro Dio vi ha imposto a non servire altri dei l'ira del Signore si accenderà contro di voi e voi sarete spazzati via dalla terra buona che gli vi ha dato voi sapete che la Sacra scrittura attribuisce a Dio la causa prima di tutte quante le cose ma non dobbiamo intendere questi versetti come farete questo e quindi Dio vi punirà perché volgere lo sguardo ad altro significa autocondannarsi a morte perché non c'è più Dio con noi capite e se tu non stai più in grazia di Dio ma guarda che stai in grazia di Satana e stai in grazia di Satana il salario di Satana come dice San Paolo è morte è dolore è fine questo non dimentichiamo ormai questo va anche per noi e qui perché tutte queste cose non rimangano campate in aria cosa fa Giosuè? raduno tutte le tribù di Sarela Sichem convoca gli anziani i capi i giudici i scrivi e questi prestano davanti a Dio e che cosa fa Giosuè? lo zicarone il memoriale ricorda tutta la storia della salvezza a partire da Abramo ma non ho passati da Abramo 7-800 anni mica una settimana e perché però? perché quello che stavano vivendo era il compitamento delle promesse fatte da Abramo anche qui vedete i tempi di Dio 7-800 anni questa band non li ha visti Abramo e ad Abramo era stato detto guarda che ti do la terra dove scorre la temiera quella dove sta il Canaleo la Morreo il Perizzita l'Eveo il Gebuseo il Gergeseo ma c'è entrato Giosuè non Abramo i tempi di Dio e anche qui cioè non mettiamoci mai a giudicare le opere del Signore i tempi del Signore cioè noi non siamo non abbiamo la capacità di fare un discernimento su questo quindi così dice il Signore Dio di Israele ce lo gustiamo nei tempi antichi i vostri padri da cui Terac addirittura padre di Abramo e padre di Nabor abitavano oltre il fiume il grande fiume il fiume Eurate cioè in Mesopotamia essi servivano altre idee qui parla il Signore io presi Abramo vostro padre da oltre il fiume e gli fece percorrere tutta la terra di Canaan moltiplicare la sua discendenza e gli dì Isacco a Isacco di Giacobbe di Esau assegnare a Esau il possesso della zona montosa di Sera mentre Giacobbe i suoi figli c'erano in Egitto Giuseppe no? in seguito mandai qui 500 anni di schiavitù in Egitto in seguito mandai Mosè a Ron e colpì l'Egitto con le mie azioni in mezzo ad esso e poi vi feci uscire feci uscire dall'Egitto i vostri padri e voi rivaste al mare gli egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri fino al Mar Rosso ma essi gritarono al Signore che pose fitte tenebre tra voi gli egiziani sospinsi sopra di loro il mare che li sommesse i vostri occhi hanno visto quanto feci in Egitto poi dimorate lungo tempo nel deserto vi fece entrare nella terra degli Amorrei che abitavano ad occidente e lo giordarono vi attaccarono ma io le consegnai una vostra voi prendeste possesso della loro terra e Dio li distrussi anzi a voi poi altro episodio del libro di Giosuè no scusate del termine del libro dell'Eso in seguito Balak figlio di Zippor re di Moab si le vuole attaccò Israele non dobbiamo chiamare Balaam il mago figlio di Beor perché vi maledicesse altro intervento di Dio ma io non voglio ascoltare Balaam e degli dovete benedirvi lo stagione che quando va a maledire Israele non ci riesce e anzi si chiamare di dirlo lo benedice altro celebre episodio dell'uscita dalle giri dell'ingresso nella terra comessa così vi liberate dalle sue mani attraversaste di Giordano arrivaste a Gerico gli attaccarono i signori di Gerico gli amorrei i periditi e i gergesei ma io li consegnai in mano vostra vi diede una terra che non avete che non avevate lavorato abitate in città che non avete costruito e mangiate frutti di vigno all'evetica non avete vintato ok basta ora dunque sentiamoci la detta a noi queste parole temete il signore yeru yare temete e servitelo veivdu ebed ebed significa schiavo in ebraico avad significa servire e servitelo con integrità e fedeltà bellissime betamim ob emet con perfezione meglio ancora e con verità emet significa sia verità che fedeltà in ebraico eliminate gli dei che vostri padri hanno servito oltre il fiume in egitto e servite il signore se sembra mai ai vostri occhi servire il signore scegliete oggi chi servire se gli dei che i vostri padri hanno servito l'osso giordano oppure gli dei degli amorreni in cui territorio abitano quanto a me alla mia casa serviremo il signore cosa è il popolo il popolo lontano da noi abbandonare il signore per servire altri dei perché il signore è il nostro dio che ha fatto salire noi i padri dalla nostra terra dell'agito dalla condizione servile egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati il signore ha scacciato dinanzi a noi tutti questi popoli e gli amorrei che abitavano la terra perciò anche noi serviremo il signore perché egli è il nostro dio bellissimo questa è sia la nostra la nostra dichiarazione gam anachnu navod et adonai anche noi anachnu serviremo navod et adonai il signore poiché chi hu elohenu perché lui è il nostro dio Giosuè disse al signore Giosuè disse al popolo voi non potete servire al signore perché è un dio santo è un dio geloso egli non perdonerà le vostre tragressioni e i vostri peccati se abbandonerete il signore servirete dai stranieri egli vi si volterà contro e dopo avervi fatto tanto del bene vi farà del male e vi nienterà il popolo rispose no no noi serviremo il signore Giosuè disse allora al popolo voi siete testimoni contro voi stessi che vi siete scelti di servire al signore per servirlo che vi siete scelti il signore per servirlo rispose siamo testimoni siamo testimoni eliminate allora gli dei degli stranieri che sono in mezzo a voi e rivolgete il vostro cuore al signore Dio di Israele il popolo rispose a Giosuè noi serviremo il signore nostro Dio ascolteremo la nostra voce guardate quante volte ricorre questo termine serviremo il signore serviremo il signore serviremo il signore Giosuè erige una pietra dopodiché congela il suo popolo e dopodiché dopo questi fatti Gesù è figlio di noi servo del signore morì a 110 anni bellissimo questo questo brano con cui concludiamo serviremo il signore serviremo il signore per noi è un onore la vita cristiana come sappiamo i nostri giuramenti noi queste cose le abbiamo giurate il giorno del nostro battesimo attraverso i padrini e le abbiamo fatte il giorno della nostra crescita è importantissimo amici miei quello che si fa nelle notte di Pasqua nella vita di Pasqua è un gesto importantissimo ma ripeto abbiate l'abitudine c'è l'indulgenza plenaria di rinnovare le promesse del giorno del nostro battesimo rinuncio a Satana a tutte le sue opere a tutte le sue seduzioni a tutti quanti i suoi idoli credo in Dio credo in Gesù Cristo credo nello Spirito Santo la nostra vita è il nostro parto l'amicizia con il Signore la grazia del Signore si compie nel servizio al Signore osservare e mettere in pratica osservare e mettere in pratica Shamar e Asar in ebraio per abitare la promessa dove scorre latte e miele che è la vita di grazia e di santità e per chi la conosce e ci crede facciamo una piccola parentesi prima di concludere la vita nella divina volontà ci vediamo amici e Dio vuole alla prossima puntata dove dopo Giosuè apriremo il capitolo del libro dei giudici che Dio vi benedica e la Madonna sempre e protega grazie grazie Grazie.